È stato identificato l'uomo che ha inviato la lettera di minacce contenente un bossolo di calibro 38 al titolare della società che aveva affittato a Sansepolcro l'appartamento messo a disposizione ad otto profughi nigeriani. La notizia è stata confermata dal prefetto Guidi durante la sua visita all'ex centro oncologico dell'ospedale San Donato dove vengono effettuati gli accertamenti sanitari sui migranti destinate alla nostra provincia. La lettera aveva comprensibilmente allarmato il destinatario, un 78enne di Sansepolcro anche perché già in passato aveva ricevuto intimidazioni e telefonate poco piacevoli. Il mittente della lettera minatoria è stato denunciato per minacce aggravate e detenzione illegale di armi. Sansepolcro è veramente un episodio isolato. Mi sembra che sia un episodio che non generi nessun allarme né in termini di possibili fattori emulativi perché questa è una comunità che ha sufficienti anticorpi, c'è un senso di civiltà che non mi preoccupa. Ovviamente tutta l'attenzione alla sicurezza di chi in qualche modo è stato colpito anche se è un episodio che si è rivelato non particolarmente preoccupante. Tra l'altro è stato anche assicurato alla giustizia l'autore.